Cos'è la Pasqua? La Pasqua di Gesù è ciò che i discepoli si sono immaginati e non hanno vissuto. Tutto ciò che hanno ascoltato per tre anni dalle labbra di Gesù si è sciolto, si è sgretolato. Una speranza morta, una depressione dilagante, un senso di profonda impotenza. Ecco la fotografia al tempo di Gesù, ma è la stessa fotografia di molti cristiani di oggi, che non credono più, che non si fidano più, che non gettono più la loro vita in Cristo. La Pasqua reale è l'opposto. La Pasqua è la fiducia di vedere il mondo con gli occhi della fede, di sperare l'impossibile, di tuffarsi nella piena fede in Cristo, di credere che nulla è impossibile a Dio. Infatti al sepolcro i discepoli corrono, corre Pietro e un discepolo che non è menzionato. Questo misterioso personaggio possiamo identificarlo con la nostra persona. Questi due discepoli corrono con la bussola del cuore, con il fiato pieno di speranza, e davanti al sepolcro Pietro si ferma e fa entrare questo discepolo, cioè fa entrare noi, perché il Signore vuole che ognuno di noi possa vedere i segni della risurrezione. Ma cosa vede questo discepolo? Vede segni di morte, un lenzuolo afflosciato su se stesso e delle bende per terra. Incredibile, questo discepolo, vedendo segni di morte, crede invece alla risurrezione. Perché la fede va oltre l'apparenza, va all'intuizione del cuore. La fede non è falsa immaginazione, ma è vero amore. L'amore infatti non lo vedi, lo vivi. La fede non la tocchi, la vivi. In un certo senso quello che c'è scritto nel Piccolo Principe, che l'essenziale è invisibile agli occhi. Infatti Dio è invisibile agli occhi, ma se lo incontriamo la nostra vita cambia. Allora la domanda di questa giornata così importante, che condensa tutto l'anno liturgico, tutta la vita di un cristiano, è perché Gesù è risorto. Non è una grande cosa credere che Gesù sia morto. Questo infatti lo credono tutti. La cosa veramente importante e grande è credere che Gesù è risorto. Gesù è risorto perché fosse chiaro per tutti i secoli che l'amore di Dio è più forte della morte. Il vero nemico della morte non è la vita, ma l'amore che va oltre ogni condizione. Nell'alba di Pasqua non a caso chi si recca alla tomba sono quelli che hanno fatto l'esperienza vera dell'amore di Gesù Cristo. Le donne, la Maddalena, Pietro, il discepolo amato, sono stati i primi a capire che l'amore vince la morte. L'amore va oltre. Noi tutti siamo qui sulla terra per fare cose che meritano di non morire. Dobbiamo lasciare l'impronta dell'amore nel futuro. Tutto ciò che vivremo nell'amore non andrà perduto. Pertanto questa Pasqua deve trasformare il nostro sguardo, i nostri occhi. Dobbiamo chiedere la grazia di avere occhi nuovi. Gli occhi della fede. Occhi che non vedono un corpo mancante nel sepolcro, ma vedono ciò che questo vuoto è, la resurrezione. Occhi che non vedono solo una tomba vuota, ma vedono uno spazio per entrare nella vita piena. Occhi che non vedono solo la porta di un sepolcro, ma vedono e percepiscono la porta per entrare nell'eternità. Occhi che non vedono solo il buio della morte, ma occhi che riconoscono la luce della vita eterna. Occhi che non vedono solo disorientamento e paura, ma occhi che vedono l'amore, quello vero, quello eterno, quello che non muore. Occhi che non vedono un lenzuolo senza il corpo, ma vedono i due segni che Gesù ha voluto lasciare per l'eternità e che ancora oggi possiamo contemplare nella Santa Sindone. Luce e sangue. In un certo senso l'autografo di Dio. Luce perché tutti dobbiamo essere portatori di luce nel mondo, portatori di speranza, portatori di amore, illuminare le tenebre. E sangue perché dobbiamo avere una fede di cuore, che non sono solo parole, ma che incarna realmente la parola di Dio e a cui dobbiamo dare vita, il sangue, il segno della vita, la luce, il segno di uscire dalle tenebre. Allora la grande notizia della Pasqua, la grande notizia di oggi è che Gesù è vivo. Non è solo rianimato nella memoria, per niente Gesù è risorto, Gesù è vivo. Questo, se lo viviamo veramente, cambia tutto ciò che noi siamo e noi crediamo. Perché in quella tomba vuota rileggiamo tutta la nostra vita. Tutta la nostra fede è basata sull'assenza di un cadavere. Perché la morte è stata sconfitta. Il primo segno di Pasqua, appunto, è la tomba vuota. Nella storia umana manca un corpo al bilancio dell'odio, della violenza, della morte. Manca un corpo alla contabilità della morte. Il bilancio per la morte sarà sempre negativo perché Gesù è risorto e ognuno di noi è chiamato alla risurrezione. Pensateci, a Gerusalemme, il luogo più santo e più sacro della terra, tanta gente va per vedere una tomba vuota. La tomba più visitata al mondo è la tomba vuota di Gesù Cristo. È il segno della risurrezione. Per fare sintesi si può dire che la Pasqua è l'uscita dalla notte. Se ci pensiamo, Gesù ha preso il proprio slancio nel cuore di una notte, quella di Natale, piena di stelle, di angeli, di canti. E Gesù ricomincia tutto in un'altra notte, quella di Pasqua, la notte del naufragio, di un terribile silenzio, di un buio ostile dove il disorientamento e la tristezza sono i capisaldi. Facendo sintesi allora si può dire che realmente la notte dell'incarnazione è dove il verbo si è fatto carne, cioè Dio si fa uomo, e nella notte invece della risurrezione la carne dell'uomo indossa l'abito dell'eternità. L'uomo scopre veramente il suo destino, cioè abitare l'eternità con Dio. Ecco il ponte che fa comprendere la fede, da una notte all'altra per vivere la vita eterna nella luce. Che questa Pasqua sia per noi la comprensione della vittoria dell'amore, del camminare verso la pienezza della vita, con una domanda che deve scuoterci. Vogliamo vivere da risorti o da crocefissi? Il crocefisso ha avuto una durata ben precisa. La risurrezione di Cristo vive tutt'oggi. Smettiamola di cercare le croci della vita, smettiamola di piangerci addosso, e di lamentarci magari di un Dio assente. Gesù è risorto, perché anche noi possiamo vivere tutti i giorni da risorti, certamente con i segni della nostra sofferenza, della nostra vita, con i buchi dei chiodi nella nostra pelle, ma vivere da risorti. Allora iniziamo questo cammino seguendo Pietro. Andiamo a vedere un vuoto che ci riempie la vita. Buona Pasqua di risurrezione. Grazie. 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 Grazie.